Ha accompagnato Giovanni Paolo II da quando è stato eletto al Soglio di Pietro nel 1978 fino alla sua morte il 2 aprile 2005. Arturo Mari è il fotografo del Papa che con le sue istantanee ha portato in tutto il mondo l'immagine di Voitila. Le udienze, le celebrazioni, gli incontri con i capi di Stato, i viaggi in tutto il mondo e poi la salma esposta a San Pietro, le solennie esecue. Arturo Mari ha seguito il pontefice polacco come un'ombra e ora, che diventa santo, ricorda con emozione il suo Papa. Ho vissuto per 27 anni accanto a un santo e per cui domenica sarà un'alta soddisfazione assistere e vederlo nella gloria degli altari. Oltre 6 milioni, gli scatti che Mari ha realizzato in 27 anni di pontificato di Giovanni Paolo II e più di 100 viaggi nei 5 continenti. Ce n'è uno che ricorda in particolare. Il viaggio che più mi ha interessato è stato quello della Terra Santa. È un viaggio tutto particolare, è un viaggio pastorale ma è un viaggio che esce da fuori i carismi di Giovanni Paolo II. Io l'ho battezzato Gesù dalla nascita alla morte, al Calvario. Perché da quando lui è arrivato, Giovanni Paolo II, alla Natività fino al Calvario, vedere quest'uomo era impossibile credere che era Giovanni Paolo II perché i suoi occhi e le sue espressioni non erano sue. Lo scatto che più è rimasto nel cuore al fotografo del Papa è l'istantanea di Giovanni Paolo II di spalle abbracciato alla croce nel giorno della sua ultima via Crucis. Per me ho detto che ha scritto 15 encicli e ho spiegato anche il perché e come si chiama questa enciclica. L'enciclica della sofferenza. Non le basta questo? Non ha visto abbastanza quest'uomo? Quanto ha sofferto? L'acciclica della sofferenza. Non le basta questo?